Sul Gemelli Toma ha mentito non solo all'Aula ma tutti i molisani. Attacco frontale di Gianluca Cefaratti al commissario ad acta Donato Toma in merito alle prescrizioni sulla radioterapia. Il presidente della quarta commissione che si occupa di sanità ritiene che il commissario debba fare un passo indietro per l'incapacità di gestire, a suo dire, la sanità sia pubblica sia privata in Molise. Ieri il commissario presidente Donato Toma ha affermato rispetto al decreto del commissario ad acta numero 1 del 20 gennaio che gli operatori medici del Gemelli non possono prescrivere la radioterapia. Invece a leggere il parere reso dal ministero su una richiesta dello stesso commissario ad acta è palese nell'ultimo capoverso che invece il ministero dice che i medici del Gemelli possono prescrivere la radioterapia per quei pazienti ovviamente che ne hanno bisogno. Per cui rendere delle dichiarazioni in aula che non corrispondono alla realtà credo che sia una cosa incredibile, difficile da commentare. Per cui davvero penso che il commissario dovrebbe occuparsi più che delle questioni relative alla sanità convenzionata forse a cercare soluzioni per diminuire quella che è la mobilità passiva della regione Molise che ha raggiunto cifre incredibili, sembra vicine agli 80 milioni di euro e sulle quali non trova alcuna soluzione. Per cui davvero io credo che siamo arrivati al capolinia. Donato Toma rispetto alle dichiarazioni ieri rese in aula dovrebbe solamente dimettersi perché non corrispondono alla realtà. Gradirebbe le sue dimissioni da commissario o da presidente della regione? Ma guardi, da commissario perché da presidente della regione posso comprendere che è stato eletto con i voti dei cittadini molisani e con il contributo di chi in qualche maniera anche del sottoscritto ha concorso alla sua elezione ma da commissario ha avuto una nomina per cui se questa nomina non riesce in qualche maniera a portarla avanti nel miglior modo possibile, ovvero per far sì che la salute in Molise sia un bene in qualche maniera a cui tutti possono accedere in qualche maniera allora sta dimostrando incapacità nella gestione della sanità per cui deve rimuovere questa incapacità e l'unico modo per rimuoverla è quella di dimettersi.